E allora perché leggi? In parte perché mi fa piacere, in parte perché ne ho l'abitudine e sto a disagio se non leggo, come se non fumo, in parte per conoscere me stesso. Quando leggo un libro mi pare di leggerlo solo con gli occhi, ma quando mi imbatto in un paesaggio o magari solo in una frase che ha un significato per me, esso diventa parte di me. Allora ho preso dal libro tutto ciò che può darmi e non ne trarrai altro se non lo rileggessi una dozzina di volte. Mi pare che tutti noi siamo come boccioli chiusi e la più parte di ciò che leggiamo non ha su di noi alcun effetto, ma ci sono certe cose che hanno un particolare significato e che fanno aprire un petalo. Poi i petali si aprono uno a uno e alla fine ecco il fiore. Philip non era soddisfatto della sua metafora, ma non sapeva come altro spiegare una cosa che sentiva e che non gli era del tutto chiara. Tu vuoi fare delle cose, vuoi diventare qualcuno, gli disse Hayward stringendosi nelle spalle. È tutto così volgare. Philip conosceva molto bene Hayward. Adesso era debole e vanesio, così vanesio che bisognava stare sempre attenti a non ferire i suoi sentimenti, mescolava pigrizia e idealismo a tal punto, a non riuscire più a distinguerli. Un giorno, nello studio di Lawson, incontrò un giornalista che restò affascinato dalla sua conversazione. Una settimana più tardi il direttore di un giornale gli scrisse, proponendogli di scrivere alcuni pezzi di critica per lui. Per 48 ore Hayward appartì l'agonia dell'indecisione. Aveva parlato tanto a lungo di trovare un'occupazione del genere, che non aveva il coraggio di rifiutare, ma il pensiero di fare qualcosa riempiva di terrore. Alla fine declinò l'offerta e respirò liberamente. «Avrebbe interferito col mio lavoro», disse a Philip. «Quale lavoro?» mi chiese brutalmente Philip. «La mia vita interiore». Poi proseguì, dicendo cose assai belle su Amien, il professore di Ginevra, e cui mente brillante aveva promesso capolavori mai compiuti. Dopo la sua morte, i motivi del suo fallimento e, allo stesso tempo, la giustificazione del fallimento stesso, furono rivelati dal minuzioso, stupendo diario che era stato ritrovato tra le sue carte. Hayward sorrideva enigmaticamente. Hayward parlava gradevolmente di libri. Aveva un gusto squisito ed era capace di scelte raffinate. Era costantemente interessato alle idee, da qualcosa lo rendeva una piacevole compagnia. In effetti, le idee non avevano alcun significato per lui, ma le maneggiava come precevoli porcellane in una sala d'aste, maneggiandole con piacere e osservando le forme e i colori, attribuendo loro un valore nella propria mente e riponendole poi nei loro scaffali, per non pensarci più. Fu Hayward che fece una scoperta memorabile. Una sera, con la debita preparazione, portò Philip Lawson in una taberna a Backstreet. Notevole, non solo per se stessa e per la sua storia. Conservava ricordi di gloria del secolo XVIII che potevano eccitare un'immaginazione romantica, ma per il suo tabacco da fiuto, che era il migliore di Londra, e soprattutto per il suo punch. Hayward li condusse dentro a una sala larga e lunga, di oscura magnificenza, con brutti quadri alle pareti raffiguranti donne nude. Grandi allegorie della scuola di Haydn, ma il fumo del gas e l'atmosfera di Londra avevano loro conferito una patina che li faceva sembrare opere di antichi maestri. I pannelli scuri, l'opaco oro delle cornici massicce, le tavole di mogano, davano alla sala un'aria di comodità sontuosa, e i sedili ricoperti di pelle lungo le pareti erano morbidi e soffici. C'era un cranio di ariete su un tavolo nei pressi della porta che conteneva il celebrato tabacco da fiuto. Ordinarono il punch. Lo bevero, era un punch a rum caldo. La penna non riesce a descrivere la sua eccellenza. Il sobrio vocabolario e la scarsa aggettivazione di questa narrazione sono inadeguati al compito. Termini aulici e frasi esotiche ne sarebbero appena all'altezza. Scaldava il sangue e rischiarava la testa. Riempiva l'anima di benessere. Disponeva la mente a dire cose argute e a capire le arguzie altrui. Aveva la vaghezza della musica e il rigore della matematica. Solo una delle sue qualità era paragonabile a qualcosa d'altro. Aveva il calore di un cuore buono, ma il suo gusto e il suo profumo, il piacere che dava, non sono descrivibili in parole. Charles Lamb, col suo tatto infinito, che avesse provato a farlo, avrebbe potuto disegnare quadri affascinanti della vita dei suoi giorni. Lord Byron, in una stanza del Dong Kwan, tendendo all'impossibile, avrebbe potuto raggiungere il sublime. Oscar Wilde, aggiungendo gioielli di Isfam ai broccati di Bisanzio, avrebbe potuto creare una bellezza conturbante. Ciò detto, la mente turbinava, mossa delle visioni di orge di Elio Gabalo, dalle sottili armonie di Debussy mescolate con lacre profumo di cassettoni che hanno contenuto antichi abiti, collari, farsetti di una generazione dimenticata e con il profumo dei gigli della valle e un sentore di formaggio cheddar. Hayward aveva scoperto la taverna in cui si poteva ottenere questa bevanda senza prezzo, incontrando per strada un uomo chiamato McAllister, che era stato con lui a Cambridge. Era un agente di cambio, un filosofo. Aveva l'abitudine di andare alla taverna una volta alla settimana e presto Philip, Lawson e Hayward presero l'abitudine di incontrarsi lì, il martedì sera. Il mutamento della moda aveva fatto sì che il locale fosse adesso poco frequentato, cosa che costituiva un buon vantaggio per persone che avevano il piacere della conversazione. McAllister era un uomo dall'ossatura grossa, troppo basso per il suo peso, col viso largo e carnoso e la voce dolce. Studiava Kant e considerava ogni cosa dal punto di vista della ragion pura. Era un appassionato espositore delle sue dottrine e Philip lo ascoltava, con grande interesse. Era arrivato alla conclusione che nulla lo divertiva più della metafisica, ma non era troppo certo della sua efficacia nelle questioni della vita. Il piccolo sistema che si era costruito come risultato delle meditazioni fatte da Black Stable non gli era stato granché utile durante la sua infatuazione per Mildred. Non gli pareva che la ragione aiutasse molto a vivere. Mi sembrava invece che la vita andasse avanti per conto suo. Ricordava vividamente la forza dell'emozione che lo aveva posseduto e la sua incapacità, mentre era incatenato a terra, a reagire. Aveva letto nei libri sagge teorie, ma poteva giudicare solo della sua esperienza. Non sapeva se era diverso dagli altri o no. Era incapace di valutare i pro e i contro di un'azione, i benefici che potevano risultare e ne compiendola, i danni che potevano risultare dall'ometterla. Tutto il suo essere era travolto irresistibilmente dall'urgenza della vita stessa. Egli non agiva con una parte di sé, ma con tutto se stesso e il potere che lo possedeva non sembrava aver molto a che fare con la ragione. Tutto ciò che la ragione faceva era indicargli i metodi per ottenere ciò che la sua intera anima bramava. McAllister gli ricordò l'imperativo categorico Agisci come ogni tua azione dovesse porsi come regola generale per tutti gli uomini. Mi sembra una totale scempiaggine, disse Philip. È piuttosto presuntuoso da parte sua dire una tale cosa di Immanuel Kant, replicò McAllister. Perché? La venerazione per ciò che ha detto qualcuno è una stoltezza. C'è fin troppa dannata venerazione nel mondo. Kant pensava delle cose non perché fossero vere ma perché lui era Kant. Bene, allora quali sono le sue obiezioni all'imperativo categorico? Parlavano come se fossero in gioco i destini dell'impero. Esso dice che si può scegliere il proprio destino mediante la volontà e dice anche che la ragione è la guida più sicura. Perché mai la ragione dovrebbe essere migliore guida della passione? Sono due cose diverse. Ecco tutto. Allora lei è uno schiavo contento delle sue passioni. Ne sono schiavo perché non posso farne a meno ma non certo contento rise Philip. Mentre parlava ripensava alla calda follia che l'aveva spinto dietro a Mildred. Ripensava a quanto aveva lottato e a quanto si era sentito degradato. Grazie a Dio ora sono libero da tutto questo pensò. Tuttavia mentre si diceva così non si sentiva del tutto sicuro di parlare sinceramente quando era sotto l'influsso della passione. Si era sentito particolarmente forte e la sua mente aveva funzionato con vifacità straordinaria. Era più vivo, più reattivo e la sua anima aveva provato un'ansia che gli faceva sentire la vita attuale piuttosto spenta. Tutto il dolore che aveva patito era stato ricompensato da quella sensazione di estrema vitalità. Ma quelle infelici parole su Kant impegnarono Philip in una discussione sulla libertà della volontà. E McAllister che aveva una grande memoria l'argomento senza tregua contro di lui. La sua mente era tagliata per la dialettica spinse Philip a contraddirsi lo costrinse in un angolo dal quale non riuscì a districarsi che al prezzo di pericolose concessioni. Lo incastrò in tappe logiche e lo sommersse di citazioni autorevoli. Alla fine Philip disse va bene non posso dire nulla per gli altri parlo solo per me l'illusione della libera volontà è così forte nella mia mente che non posso farne a meno ma sono convinto che sia solo un'illusione. Ma quest'illusione è una delle motivazioni più forti delle mie azioni. Prima di fare qualsiasi cosa io sento di poter scegliere e ciò influenza quello che faccio. Dopo quando la cosa è fatta credo che fosse inevitabile dall'eternità. Cosa ne deduce quindi? L'inalità del rimpianto. Non serve a nulla piangere sul latte versato perché tutte le forze dell'universo erano coalizzate per farlo versare.